non dire cosa c'è allora questa è solo una parte delle 7 8 che avevamo trovato giù sotto nel torrente mentre che sono queste qua che abbiamo portato su dalla valle più altre che va bene più sotto qua ce n'è una montagna ancora quindi ci sono i nomi sulle gomme quindi penso che qualcuno andrà a recuperare chi le ha buttate qua incredibile ma vero